www.redigio.it E la storia continua 1933 A Berlino trionfa il saluto romano A Roma si pensa Che gratta capo È il 18 marzo Il trimotore militare, l'S66 armarra sullo specchio d'acqua del Lido di Roma È pilotato da Italo Balbo E porta nella capitale ospiti illustri Il premier inglese Ramsey MacDonald E il suo ministro degli esteri Sir John Simon MacDonald è accompagnato dalla giovane figlia Isabella Per lei c'è uno splendido mazzo di orchidee offerte dal duce Che è lì ad attendere gli ospiti in cilindro Mussolini ha invitato l'anziano uomo politico in una pausa della conferenza di Ginevra per il disarmo Per sottopogli un suo progetto di patto fra le quattro maggiori potenze europee Inghilterra, Francia, Germania e Italia Scopo del direttorio è quello di porsi in posizione arbitrare per la soluzione dei problemi lasciati aperti dalla grande guerra Il progetto prevede Il patto a quattro è il primo atto di una politica estera che vuol porre Roma al centro dell'Europa La politica estera fascista si rivolge quest'anno in tutte le direzioni Tiene una mano al nazionalismo tedesco e rafforza il regime clerico fascista del cancelliere austriaco Dolfus Si appoggia all'Inghilterra e stringe accordi con la Francia e l'Unione Sovietica I colloqui fra le quattro potenze, se non sono facili, si concludono però in breve tempo Il 7 giugno Mussolini annuncia al paese che il patto a quattro è stato siglato Chi l'ascolta applaude e intona ripetutamente giovinezza Per l'acclamazione si approva anche il discorso che venga affisso a tutti i comuni del regno Ma tuttavia il patto siglato è solo il fantasma di quanto aveva progettato Mussolini Durante le trattative il testo è stato più volte emendato Il direttorio non risulta altro che un doppione della società delle nazioni E l'accordo, che non sarà mai ratificato dai parlamenti inglesi e francesi, risulterà privo di ogni validità Il tentativo d'accordo ha comunque dato l'impressione di voler essere un blocco occidentale Per isolare Russia dei Soviet E il Duce, che ancora desidera mantenere tutti gli equilibri, cerca di fugare questi sospetti Il 2 settembre, nella sala del Mappamondo a Palazzo Venezia Mussolini e l'ambasciatore Vladimiro Potemkin Firmano un patto di amicizia, non aggressione e neutralità tra l'Italia e l'Unione Sovietica Un popolo di 164 milioni di abitanti deve essere valutato come potenza mondiale Scriverà Mussolini sul popolo d'Italia alla fine del mese Da parte russa, i commenti sono simili Il governo italiano non desidera dare un senso antisovietico al patto A4 Nell'Italia e nell'Unione Sovietica hanno scopi contradditori nella loro politica estera Scrive la Isvetia Il patto è la logica conseguenza degli accordi commerciali stipulati il 6 maggio E la Russia rappresenta per l'Italia un'ottima fornitrice di carbone e petrolio Un buon successo Mussolini ottiene anche in Austria Divenendo il maggiore ispiratore della politica antisocialista del cancelliere Dolfus Personaggio debole, minuto A Vienna lo chiamano Emilie Metternich Fervente cattolico, Engelbert Dolfus E' l'uomo che Mussolini manovra per contrastare la pressione del partito socialista A quelle del nazionalsocialismo Favorevole all'annessione dell'Austria alla Germania Germania nazista Il controllo avviene attraverso delle formazioni squadristiche legate alla polizia italiana E cappeggiate dal principe Stamemberg Questo nobile indebitato Benito Mussolini Non risparmia aiuti in denaro E non gli innesina neppure le armi I contatti fra i due governanti sono frequentissimi In aprile Mussolini si reca Vienna E induce lo statista a formare il foronte patriottico Una flange fascista al di sopra dei partiti I contatti fra i due uomini politici Sono sempre più frequenti nella seconda metà dell'anno Alla fine di giugno In seguito alla cotizzarsi della tensione tra la Heimwerin e i nazisti Dolfus si reca a Roma Per conferire con il suo protettore E successivamente Una lettera di Mussolini lo rassicura che Qualsiasi cosa possa avvenire L'aiuto italiano non verrà a mancare Ben presto Il cancelliere è ancora in Italia Riccione Anticipato di dieci giorni la visita già annunciata E arriva il 19 agosto Il primo colloquio col duce Avviene nell'appartamento del Grand Hotel Dove soggiorna Dolfus Gli altri incontri saranno molto informali Parlano spesso sulla spiaggia Mussolini in costume da bagno E Dolfus in maniche di camicia Oppure sul bianco piccolo veliero Irma Mussolini dà al cancelliere austriaco le precise direttive Introdurre nel governo elementi della Heimwerin Dare carattere dittatoriale al governo Creare un commissario straordinario per Vienna E fare propaganda su larga scala Il tutto deve essere preceduto da un acceso discorso E il duce indica i punti salienti E il tono da tenere Ma perché Mussolini entra così minutamente negli affari austriaci Per contrastare il progetto nazista dell'Ankeschluss? Perché è ancora molto diffidente Nel riguardo del movimento tedesco E del suo capo Adolf Hitler Hitler per contro Cerca da anni l'amicizia di Mussolini Più volte ha affermato che la questione dell'Alto Adige Non avrebbe impedito La collaborazione dei due regimi Egli è convinto Che i tedeschi in questa regione Non vogliono l'inimicizia italiana Hitler sostiene che il nazismo Non è un'emanazione al fascismo Ma un movimento parallelo E dubita che Senza la marcia di Roma Il partito nazionalsocialista Avrebbe mai potuto aspirare al potere E dice Probabilmente la camicia bruna Non sarebbe mai esistita Senza la camicia nera Ma in tutti questi anni Colui che Hitler chiama maestro Non l'ha mai voluto ricevere L'atto di più calorosa amicizia Concessegli da Mussolini E' stato L'invio di una sua foto con Dedica E ancora Nel 1932 Ludwig Ha raccontato che Durante le interviste Per il suo celebre libro Colloqui con Mussolini Il duce gli ha chiesto Che cosa pensi di Hitler E io abbassai la destra Indicare l'altezza di un nano E gli dissi Hitler Così E gli annui Evidentemente soddisfatto E non disse Motto La vittoria di Hitler Il 23 marzo Che quando ottiene I pieni poteri Si ritiene Che dovrebbe far prendere La posizione precisa Al fascismo Nei riguardi Del movimento fratello Ma ha l'atteggiamento Ancora ambiguo Il trionfo nazista E salutato Dei giornali Come un fatto positivo Crollo dei vecchi sistemi Demoliberali Nel mondo Dice un titolo Del popolo d'Italia E il resto del carrino Dice Sulle orme del fascismo Hitler Cancelliere del Reich Guida il potere Le giovani forze Innovatrici Della Germania Ma Le preoccupazioni Di Mussolini Sono rese evidenti Proprio dai Consigli Dati Adolfus www.redigio.it E la storia Continua Il Il